Si amplia l'offerta del pronto CISL e pensa a chi ha difficoltà a muoversi mettendo a disposizione un mezzo per il trasporto. L'associazione di volontariato Antea Sollus Piacenza, che risponde al numero 800 945 020, ha presentato il nuovo progetto che utilizza i fondi del 5x1000. Voglio rimarcare la gratuità del servizio dedicato a tutti i cittadini disabili, malati o in difficoltà che potranno essere accompagnati ad esempio a fare le spese, alle visite o a ritirare la pensione, ha affermato il presidente dell'associazione Giuseppe Tamborlani. Noi pensiamo di realizzare al meglio il pronto CISL, perché prima lo facevamo in modo artigianale, oggi con la possibilità di avere un mezzo, io penso lo facciamo nel modo più completo, più qualificato, più sicuro e possiamo essere un supporto molto importante per gli anziani, disabili e tutti quelli che non hanno problemi di deambulazione e di trasferimenti. Il mezzo sarà messo a disposizione dalla Società Servizio Utilità Sociale. Il servizio verrà attivato in tutto il territorio non appena verranno coperte le spese. Alle attività economiche piacentine si rivolge quindi l'appello a partecipare all'azione di solidarietà sostenendo l'iniziativa. Per informazioni sulle modalità per contribuire è attivo il numero 800 968 982. Per avere il mezzo. Ringrazio anche...